Buongiorno, buongiorno dal dottore Claudio Serracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscolo. Oggi ragazzi parleremo di sogni, realizzare i propri sogni. Rispondo ad una signora e mi chiede, dottore, ma è possibile realizzare i propri sogni? Ho letto dei libri sui sogni, però non riesco a capire come fare. Bene, la risposta, cara signora, è sì, sì, sì. E sta parlando un essere umano che può testimoniare su di sé che tutti i sogni che da bambino ho sognato, ho immaginato, si sono realizzati e si stanno realizzando anche altri. Io ho sempre sognato, ho sempre immaginato anche la mia autovettura e prima o poi è successo. Considera che sono partito da una famiglia povera, nato e cresciuto in una famiglia povera, ed ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca vicino a Milano, in quel di Modena. Imprecavo contro il destino, contro il mondo, contro il fato, senza accorgermi che il destino ero io, il mio subcosciente, il mio pilota automatico, la mia mente profonda. Ma siccome nulla succede per caso, c'era un tempo a tutto e a tutti. E quando nel 2008 mi sono approcciato, sposato, avvicinato all'ipnosi DCS che ho coniato successivamente, ossia all'ipnosi vera e professionale di Los Angeles Baby Hills, di due grandi artisti unici al mondo, di ipnosi vera e professionale, la dottoressa Rina Bruni e il professor dottor Michelangelo Garai, Ebbene, la mia vita è cambiata a livello esponenziale, in tutti i sensi immaginabili e possibili. Oggi sto bene per le prossime 37 vite, grazie a Dio, alla mia mente, all'ipnosi DCS vera e professionale, a un metodo unico al mondo, con delle istruzioni molto facili, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro, che hanno cambiato la mia vita radicalmente, ragazzi, radicalmente, radicalmente. Non lo dico per vantarmi, ma per ispirarti, a prescindere adesso dallo scaricarti o meno degli Audi MP3 DCS, tu puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, che però sia uno specialista della cosa, del desiderio, del sogno che cerchi, e farti aiutare, per non spendere soldi ad minchiam, dicono in Inghilterra, ok? Non ascoltare, non credermi, credi soltanto al potere della tua mente, però ricordati, se la tua mente la lasci fare, siccome viviamo in una società molto negativa, può portarti non al benessere, ma al malessere, senza ma, senza se, che tu sia un bambino adulto o anziano, ok? E la prova del 9, ragazzi, anche Carl Jung, Carl Jung, un grande personaggio, ripeteva spesso, rendi cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà il tuo inconscio a guidare la tua vita e tu lo chiamerai a destino. Ora, perché la minoranza è felice, la maggioranza è infelice? Chiedito il perché. Aspetto tutte le due domande, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni, visite il mio sito internet www.iprolegiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel kid, quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, alla prossima, ciao!